Siamo alla sesta puntata di Art e Storia, siamo sempre in Galleria Maffa in Corso Marzini a Forlì e sono in compagnia di Ivo Ragazzini per parlare di questa puntata che tratterà delle feste. Facciamo festa! Sì, oggi è il giorno di festa, ma quali feste? Quelle di oggi o quelle antiche? Un po' una, un po' l'altra, perché ci sono delle feste, una festa a forrivesi che tutti i forrivesi fanno per 13 dicembre che continuavano a fare da secoli, che era anche antica, e altre che sono un po' sparite, però si facevano, erano antiche feste. Guelfe e Chibellini, infatti parliamo di due feste, una Guelfe e una Chibellina. Nel mio libro, infatti, è il tuo libro. Nel tuo libro, vogliamo ricordarlo, Sotto le branche verdi. Che prima facciamo vedere Antonella. Che tratta proprio la storia antica di Forlì e varie curiosità. Esatto. Che hai raccolto del tempo, insomma. Esatto, è proprio, si parla di queste due feste. Guarda, come dice, la festa Chibellina di Santa Lucia. La festa Chibellina di Santa Lucia. È un po', strida un po' questo concetto, è un paradosso. Adesso vuol dire, oh, ma lo dice solo te, ma chi ti va detto che Santa Lucia è la festa di Chibellina? Certo, l'ho detto, io non ho proprio nessuna parte, è vero, potete scoprirlo. Così come scopriamo che c'è una festa a Guelfe, che era quella di San Bartolo, che si faceva il 24 agosto, ed è una festa della Porchetta. Ah, c'era già la festa della Porchetta. Esatto. Probabilmente questa festa adesso è stata inglobata, non si fa più, si fa il 15 agosto, perché si vede una festa, ci mangia tutti, adesso fa un'altra festa una giornata. Maggio 25, con la spiaggia che si aspetta, con la tua costume. Esatto. E vede di evitare. Esatto. 24 agosto, scusate, 24.1944, cos'era quella? Partiamo da questa qui, è la festa della Porchetta. Che che era la festa della Porchetta? Allora, era una festa che si faceva nella Guelfa a Bologna, probabilmente prima del 1249. Si faceva, è facile, perché loro lo facevano cicciotti lì, ma a sapere se lo facevano in che modo, non ho indagato, ma non ci vuole tanto. Però cosa successe? Il 24 agosto 1249, questo giorno catturarono il re Enzo, il re Enzo era il figlio di Federico II, lo catturano la battaglia di Fussalta e lo portarono a Bologna. Il giorno era la festa, era la festa della Porchetta, ma dedichiamola anche al re Enzo, questa era la cattura di re Enzo. Quindi per festeggiare questa cattura? Sì, guardate questo re Enzo, mi diceva, va, ha catturato il nemico, dai, mi fanno una festa, mi tirano da sotto. Questo re Enzo, allora, in azienda fu rilegato da Federico II, era più un nemico di Federico, non fu un buon rapporto. Inoltre a Bologna, sì, era un prigioniero, ma era un prigioniero in un palazzo che, per esempio, parliamoci chiaro, i polonesi l'hanno quasi buttato, non sognavano neanche per scappare, era ai servizi sociali, potremmo dire. Un po' come per l'ospedale nelle case di riposo. Esatto, qualcosa di più, perché poteva ricevere, poteva fare festa, insomma, era tanto bolognese, se la sognava di andare, tenetemi qua, perché se mi prendo mio padre, me la farà. Fai pezzo. Fa pezzo, è uno stradarigioniero. Comunque gli dedicarono questa festa, visto che era in concomitanza con il giorno, fegge questa festa della Porchetta. E questa qui diventò una festa bolognese. Cosa successe? E questa è una versione, ma c'è un'altra, che è festa della Porchetta, perché rubarono una porchetta, questa è divertente, a un ghibellino che si chiamava Tebalderro Zambrasi, di Faenza, durante le nostre battaglie di Fomini. Ma vediamo un po' di storia. Cosa è successo? Il Lambertassi, che è una famiglia di 12.000 guelfi bolognesi, chi ben lì di bolognesi, era stata cacciata da Bologna, e in massa 12.000, con tutti i loro familiari, immaginate, una transumata di questo genere, erano andati dentro Faenza, a un prezzo Faenza, che era stata da Guido Montefeltro conquistata, e ha cacciato via altrettanti guelfi, che sono recati verso Bologna. Immaginatevi, adesso, una roba del cedere, e questi Lambertassi, questa famiglia enorme di Ghibellini, erano bolognesi, arrivò il giorno del 24, 24 agosto, e dicevano, vi ha a festeggiare, ci vuole una porchetta. Ma non ho finito i tortellini. Ti se ne frega, c'è una festa guelfa, se i guelfi festeggiano come una vittoria sotto i ghibellini. La nostra festa, esatto, abbiamo finito i tortellini, ci vuole una porchetta, a chi la raffregava? La fregava, la rubava, ti va a dare lo strato, ti va a dare lo zambra, ci chiamo Faientino. Guelfi ho convinto. Poi mostrava Guelfi, perché il suo parente faceva parte dei frati Gaudenti, cioè il nome mi dice tutto, insomma, erano dei frati che giravano molto ricchi, dovevano essere molto ricchi per appartenere, potevano ministrare un sacco di beni, giravano in più con la spada e cavallo, con il cavaliere, e avevano anche molto libertà. Frati Godenti si chiamavano, per dire bene uno. Vero frati Gaudenti. E questo qui era parente anche di questo, sul baldello zambra, comunque loro erano un tibellino convinto, gli fregavano questa porchetta, la cucinavano e si vese a festeggiare, e con voi c'è anche il tibellino, i formibesi, dai mangiate, la festa che facciamo a Bologna, chi se ne frega, si è incappurato Reis, la facciamo anche prima, continuiamo a farla qui. facevano i generosi, anche la roba del bologna. Ti partiamo stambresi, però non era, ti partiamo stambresi, noi racconti gli avevamo fregato la porchetta, e dicevano, cavolo, papà, la prima mia porchetta, e loro gli dicevano, spilorcio, i pilorni, la prendono in giro, quelle cose che faccio, facciamo anche la romagnola, rapito, esatto, rapito, quelle cose che fanno, in caserma si fanno, quelle scherze, insomma, nelle compagnie si fanno, vai, che senso lo spilor, probabilmente, gli dicevano così, cosa fece lui? Ah sì, si incavola talmente tanto, che gliene cucinò un'altra, poi gli fece un piatto in manicharente, glieli portò davanti, l'abbertacce, i chibellini fornivesi, e disse, tenete, crepate, questa cosa fa, esatto, ce la tiene nel cuore, ce la legò, e loro, l'ho preso in giro. Stati fatto che però, questo tebandono di Zambrasi, è un chibellino che comandava una porta, probabilmente la porta, che aveva solo, c'è stata in montagna, in faenza, o verso ilmeno, verso Isla, era comandato di guarigione di quella porta, e gli occise, secondo questa, dall'era, di tradire, di tradire, di dare a patto con i guelfi, si disse, e allora, come fece? Iniziò, prima a fingersi pazzo, tre che parole, aveva usato il suo cavallo, in modo strano, proprio la pittura, tutti di coloro, che tutti lo pigliavano in giro, quando passava, poi di notte ci alzavano, e inizia a urlare, arrivano i guelfi, perché lui era di guariglio, arrivano i guelfi, e chiamavano tutti allarme, invece il trucco, è presente, un po' al lupo, esatto, un po' al lupo, che la prima volta, tutti vanno in allarme, la prima volta 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 in allarme, tutti i ragazzi, tutti i ragazzi lo pigliavano in giro, perché gira con un cavallo, un asilo, conciato, in modo strano, e gli adulti dicevano, oddio, che bagulio, che bagulio, è nato, è nato, è nato, e Bologna, quindi, cascò per la porchetta, i bolognesi festeggiarono, viva la porchetta, probabilmente, bolognesi e anche francesi, ancora di più, quella di me, la festa dei guelfi, abbiamo preso Reins, ma abbiamo preso, grazie a una porchetta, per un diverbio, che è nato, durante la festa di San Bartolo, l'invasione fu fatta in novembre, però l'incavolatura, sembra che nacque, il tempo della Zambra, si fu presa, in quel momento, insomma, è quella di me, in una festa, guelfa, anche se adesso, per quanto ne so, fra poco, non so, a Bologna se la fanno, è sparita, secondo te, è stata rimpiazzata, mi avviso, da quelle grandi mangiate, che facciamo a Ferragosto, oppure da tutte quelle sagre, della porchetta, che ormai, esatto, iniziano, esatto, iniziano, esatto, anche in autunni, primi settembre, si fanno, esatto, e si va avanti, per tutta l'autunno, esatto, e questo, Tebaldello Zabrasi, che aprì di notte, mentre si dormia, questo da Dante, era miso nell'inferno, è incredibile, questo qui, è bella, era, questo, di Bellino, che tra l'altro, passò la parte guelfa, anche se aveva già, nella famiglia, di alcuni, frate al Berigo, al Berigo, quello dei frutti del Malorto, che era uno, è uno che invitò, era uno dei frati, Gaudenti, il Gaudenti, invitò a cena, i suoi parenti, poi li venerò, con la frutta, e c'era un detto, fino al Trecento, che mai dato, la frutta di al Berigo, per dire, perché era avvelenata? Li avvelenò, mi tolge i suoi parenti, un pranzo, li avvelenò, e dato il chiamo, dei frutti del Malorto, della frutta, per avvelenare, e fino al Trecento, girava un detto, che mi dai, la frutta di al Berigo, questa, per dire, mi stai avvelenando, era consuetudine, comunque, a quei tempi, esatto, far fuori degli avversari, anche dei parenti, in quel modo, esatto, lui faceva, però lui era un frate, e viene messo l'inferno, anche lui, si metteva il D'Ambrasi, e davanti nell'inferno, frate il Berigo. E qui abbiamo trattato, quindi, la festa a Guelfa, quella di San Bartolo, che credo che in pochi, conoscessero, esatto, la frutta della porchetta. Esatto, l'ultima cosa, che stiamo da notare, è che quando vennero qua, i francesi, misero campo, a Villanova, e quella zona, chiamano San Bartolo, probabilmente, proprio dedicarlo, alla porchetta, a quella, a quella festa, alla caduta di Fainze, per una porchetta, probabile, quella bastia, chiamano San Bartolo, noi l'abbiamo cancellata, quel luogo, non si chiama più San Bartolo, e non esiste più, però, probabilmente, l'usarmo, l'usarmo il campo, chiamarlo, bisogna proprio per Fainze, caduta, per colpo di una porchetta, una beffa, caduta in mano, a Guilf, e allora, adesso passiamo, a una festa, invece, di Bellina, che sembrava, sulla carta, non fosse, esatto, dedicata a Santa Rita, Santa Lucia, scusa, Santa Lucia, Santa Lucia, il 13 dicembre, il 13 dicembre, il 13 dicembre, Santa Lucia è, perché si chiama, il giorno più breve, che ci sia, che non è il giorno più breve, che è il 21, e qualche dieci giorni dopo, qualche nove giorni dopo, oppure, oppure, perché, perché, perché i fornivesi festeggiamo, i fornivesi, e molti altri, a dire il vero, festeggiamo questa festa, di Santa Lucia, da secoli, e, non ci ho mai chiesto, ma, cosa c'entra fornì, ma anche Verone, Siena, tutte le città di Bellina, tutte le città di Bellina, badate, che la festeggiano, o altre città, con una santa, Santa Lucia, che è nata a Siracusa, nel 300 a.C., gli furono cavati gli occhi, quello che è, infatti è diventata, una protettrice, esatto, degli occhi, non vedenti, e soprattutto, perché non si fanno, la festa degli occhiali, delle reti, di Teresco, invece va avanti, dove si fa roba del zero, sì, è vero, c'è qualcuno, che viene benedetto, per i non vedenti, quel cui vero, si fa anche le chiese, qualcuno viene bene, vi ho visti questi, però, la stragrande maggioranza, una festa allegra, delle volte, una settimana, a base di torrone, torrone, oggi fa torrone, allora si fa un pan pepato, che probabilmente, fa speziato, perché non c'erano lo zucchero, dobbiamo aspettare, la scoperta della barbabiettola, esatto, non c'erano neanche, probabilmente, le frutti caramellate, come loro, la frutta candita, non so se, c'erano i miele, erano pan pepato, erano spezi, i miele mescolati, con la frutta, probabilmente, comunque, è un dolce, di quell'epoca, che poi adesso, abbiamo tradotto, poi, nel nostro torrone, che è consuetudine, esatto, probabilmente, noi si dicevamo tu, che lo facevamo col miele, pam pepato, speciale, adesso non sono un seriesi, però avevamo frutti, avevamo doni simili, c'era frutta secca, fichi secchi, frutta secca, quello si faceva, però forse, il filo conduttore, può essere anche proprio, il discorso del miele, perché anche il torrone, viene fatto anche col miele, può essere che, magari hanno ottenuto, comunque, come filo conduttore, un po' questa, esatto, grazie, ci sono tutti, adesso con il miele, vedi, potrebbe essere che si stiano anche prima, esatto, prima della scoperta dell'America, che, come vediamo, un alimento ci fa come data di marcazione, fra certi cibi, che potrebbe essere, esatto, esatto, che è vero, però è l'anno in un sostituto di miele, e se guardate, il pan pepato, non è proprio bianco, sì, c'è adesso un zucchero velo sopra, però, sembra, sì, la base, sembra una base di miele, e questo va bene, ma, si mangiava in questa, questa è Santa Lucia, se chiedete i fornivesi, ma perché si chiama la festa di Santa Lucia, quella che facciamo, ma perché nel borgo, c'è la chiesa di Santa Lucia, e questa è la festa di Santa Lucia, che è vero, ma questa Santa, cosa c'entra con noi? Cosa c'entra con noi? Poco, niente, allora perché facciamo tutta questa festa, noi, a Verone che regalano, la festa di regali, Santa Lucia si regala, è tradizione, è traviso, mi sembra, anche adesso vado a nonno, però ce ne sono, insomma, Siena, che sono tutte le città di Ghibelline, c'entra, allora, che legame c'è? È che la festa del 13 dicembre, era data della morte di Federico II, era, più nemmeno, e lui, il barattolo non era un attimo, nonostante fosse Ghibellino, esatto, Ghibellino non era un attimo, si credeva in distruggere la Chiesa, credeva in Dio, ma non nel Papa, non nella Chiesa, non nella Chiesa in sé, come, esatto, e l'avamo visto anche in questo scritto, l'avamo visto in queste, questa traduzione in fieri, in progress, chiamiamolo così, Dexter, Doni, Domini o Doni, Domini probabilmente, E qui ricorre, dentro dal Papa, allora c'erano le Chiari, no, non si metteva, e ci sta, una frase del genere, in un monumento di Bellino, dopo una vittoria, su Pregue, comunque, quindi, la festa, Santa Lucia, era, tornando a questa, era una festa, è una festa, è una festa che, è una festa che, per commemorare, la morte di Federico II, però, pensare a una festa, piuttosto che un giorno di lutto, è una cosa un po' strana, esatto, perché invece, perché lui, contrariamente, allora, quello lì, era il giorno di Santa Lucia, era già sul calendario, lui non vuole cambiare, lui disse, io non voglio sostituirne un santo, perché non voglio, che pensate sia un santo, sia una persona, quel giorno rimarrà di Santa Lucia, però, vuole come sua festa, essere ricordato, in modo allegro, non lo ha voluto, come qualcosa di alleno, che aveva fatto, lui si fa, quindi lui aveva già, dato a testamento, che voleva, comunque, una festa, come ricorrenza, esatto, voleva che le novità, si scambiassero, quelle che aveva scoperto, negli anni, le nuove cose, perché c'erano, lui ha importato molto, dagli arabi, che avevano più, più tecnologie, dagli scambi, più culturali, fu accusato di eresia per questo, perché, lui fece una crociata, è subbligato, però trattò, non combattere, fece una pace sulla carta, si rifiutò di combattere, contro gli islamici, aveva guardie islamiche, aveva cultura islamica, sapeva che aveva la tecnologia islamica, poteva, non era tutto a buttare, da gettare, e vuole come affiera degli scambi, e se scambiassero le cose, quindi come il nostro attuale mercato, quindi ha un senso, poi il fatto che, anche oggi, ci asserano questi scambi, se addirittura, e questo va verificato, alcuni ritengono la festa di Sandrucci, una festa avicola, si cambiano anche alcune zone, la vedono come scambiarsi, gli uccelli, insomma, i colori, adesso sono colori, però, ha scritto un trattato sui uccelli, sui falchi, sulla caccia, come cacciare con la caccia, come fa il falconiere, ha scritto, sembrava, quindi era una sua passione, sembrava che qualcuno, qualcuno, allora si usasse anche come scambio dei volatili, soprattutto i falconi, adesso le fiere del uccelli, vendiamo columi da carne, però allora, più alto falconi, anche cacciando falconi, l'ora, beh, con un utilizzo differente, la caccia era proprio, anche un sostentamento, e poi, anche a volte, avere anche, certi volatili, erano anche simbolici, per alcune rappresentate, e poi, insomma, avevano tanti utilizzi, che oggi, non ne abbiamo più, però Federico, proprio, lo sono trattato, ho scritto proprio sui scuri, sull'omano, che si chiamava, l'arte della caccia col falcone, era proprio lui, che spiegava come allevare il falco, e gli insegnava come, come, piumargli gli occhi, mi nascondi gli occhi, perché se no, scappate, ha guidato gli occhi, quindi, incidevano gli occhi, mettevano del colpo, per farlo vedere, non del tutto, non farò occhi, infatti, mettevano col cappuccio, per non farlo, però quando li liberavano, insomma, non doveva orientarsi, aveva esatto, se no, non tornava più, avevano queste credenze, insomma, come allevare, cosa dare da mangiare, come incitarlo, come adestrarlo, e probabilmente, faceva anche questo qui, allo scambio dei falconi, allora, e questa Santa Lucia, allora, come adesso, la facevamo noi, i nostri Borussi, la porta, l'attuale porta, l'attuale porta, che guarda, la porta a Cotoni, allora, era stata ribattezzata, porta Santa Lucia, Borgo Santa Lucia, non a caso, proprio per quando morì lui, e la chiesa di Santa Lucia, che adesso c'è, in stessa via, che è in corso della Repubblica, attualmente, la trovata sulla sinistra, in realtà, è sulla destra, la trovata, era sulla sinistra, probabilmente uno slargo, c'era davanti, quella è la chiesa originale, che probabilmente fu, proprio nel 1250, quando morì, Federico II, e incredibilmente, ancora oggi noi, quel Borgo, non si chiama più Santa Lucia, però facciamo festa, in tutto quel Borgo lì, che chiudiamo, e se vi siete qualche forniglese, perché chiede, facciamo Santa Lucia, perché c'è la chiesa lì, sì, c'era qualcosa, ma c'era molto di più, infatti, in origine, era proprio tutta, tutta la via, il corso della Repubblica, era tutto a festa, in più, quel Borgo, si chiamava Arco Togni, è sempre stato trasformato, in Santa Lucia, Borgo Santa Lucia, probabilmente fu, si è trasformato in Cotogni, e qui, ora che fosse stato ancora, a Rivarola, questo qui, però no, sono quelli che è il mio nemico, che me lo so, le nozze, sotto Rivarola, però, secondo me, ha normalizzato, anche lì, ha incavato lì, perché, costui, fece, distrugge la vecchia chiesa, o la, la trasforma in qualcosa, la vecchia chiesa, dedicata a San Epposco, di Santa Lucia, e le costruì quella nuova, fu, lui, o in quel periodo lì, quando fu normalizzato, fu lì, in realtà, smantellano la crocetta, costruivano quella, quella chiesa, che era dedicata a Federico, la lasciarono perdere, ridiedero, Santa Lucia, il Borgo, lo richiamarono, probabilmente, Porta Cotogni, Borgo Cotogni, che si chiama Borgo, Santa Lucia, c'erano vari borghi, infatti, a Fornini, i borghi, di Bili, l'hanno intitolato, Borgo Santa Lucia, forse fu lui a gli dare il nome, potrebbe essere qualcunale, però, fu lui, e soprattutto, smantellò, e questo, io non glielo perdonerò mai, adesso, questo, arrivarò alla, un giorno, non so, un giorno, andrerai, non so, stiamo parlando di, fa molti anni, non so dove, ovunque, lo potessi incontrare, secondo me, ha smantellato, e ha fatto, una grossa opera, di occlusione, occlusiva, cosa non fare, perché la gente, equivale a renderli, smemorati, e questo non va bene, mi sono, anche chi smemora, si dice smemorato, poi non ricordo molto, è una punizione, e Dante, forse, glielo avrebbe data, come costui, smantellò, il Borgo di Livia, guardate, dalle stampe, da una stampa, che abbiamo, erano due basiliche, contrapposte, ne più ne meno, bellissime, con le colonne, tutti colonnate, su cui nessuno, riconoscerebbe, diremmo qua, noi, vabbiamo una roba, da un giro, da fuori lì, comunque, sembra che lui smantellò, anche questo, e probabilmente, quelle colonne, quelle grosse colonne, che vedete, sul nostro, sullo stuomo, se mercuriale, siano state messe, o, come migliori dimensioni, erano quelle, per dare l'idea, che sono enormi, cosa aveva fatto, in Santa Croce, in Santa Croce, esatto, in Tonella, in Tonella, fatto bene suggerirmi, e quindi, non so, quindi, memoria, che abbiamo, di quegli edifici stupendi, abbiamo una stampa, e il colgamento, probabilmente, di quelle colonne, sono, quello che rimane, quelle, molte colonne, erano due basili, guardate, erano una contropostola, molti colonne minori, probabilmente, mi farò segnare qualcuno, falle vedere, sto ricercando, non mi farò vedere, no, piacerebbe, ci sarà una puntata, su questo, c'è un conto da dire, e da far vedere, per fortuna, abbiamo una memoria storica, come Ivo Ragazzini, che, ci arricchisce, con tutti questi contenuti, non è facile, credetemi, non è facile, andare a ricercare, tutte queste cose, a portarle, anche, all'attenzione, di tutti, ma sono cose, che tutti dovrebbero sapere, per gli mesi, in particolare, e basta, chiudiamo con questo, che abbiamo rimasto, sì, il gruppo non si chiama più quel nome, la chiesa, la chiesa di Federico, però, la fredda di Sant'Ruce, continua ancora, il 13 dicembre, a Santa Lucia, il giorno più breve che ci sia, non lo è, allora per quel motivo, probabilmente anche per la morte, al giorno breve, che indicava la morte, per alcuni ghibellini, mentre lui, vuole essere allegro, per il resto, ricordatelo, quando girate, la bancarella di Santa Lucia, di Santa Lucia, però io volevo ricordare, anche il 25 novembre, la festa di Santa Caterina, non c'entra con i guelpi di bellini, ma siccome, dovete ricordarvi, di portare il torrone alle belle spose, io, io la butto là, è un po' presto, però io la butto là, ricordate, per un'altra festa, però va bene, io direi di concludere qui, questa puntata, è stata molto interessante, sulle nostre feste, guelpi di bellina, ma per il momento, ci fermiamo qui, esatto, e ci rivediamo, per la prossima, la prossima esterna, e la prossima intervista, vedremo cosa fare, probabilmente, parliamo di personaggi, fornivesi, oppure vedremo anche di fare, mi piaceva fare un esterno, su un luogo particolare, però questo, lascia tutta la regia, che punterà lui, deciderà lui, e farà lui, che si chiama Marco, che voi lo vedete, però, il baglato di conoscimento, che con i mezzi che ha, che oltre tutto, tutto il resto, fa anche questo, ed è più la passione, dei mezzi che amiamo, parliamoci chiaro, che però è così, siamo artisti, e gli artisti sono così, e quando è una cosa, si buttano, comunque arrivederci, grazie. Salve, ci troviamo al MAF, qui fuori del MAF, e, di eccezionale, abbiamo un ospite di eccezione, Emanuele, che è l'ultimo, l'ultimo dei Ghibellini, io quando scrisse questo libro, che si chiama, sotto le branche verdi, gli ultimi dei Ghibellini, pensavo di essere io, l'ultimo dei Ghibellini, ma questo non è vero, c'è lui, che è esattamente, proprio l'ultimo, ma veramente, l'ultimo di cui sono a conoscenza, attualmente, dei Ghibellini, e chiediamo, il video a lui, perché Emanuele, Ghibellino? Sono andato a Forlì, risiedo in Piazza di Carmine, che è un rione di Forlì, Ghibellino, e noi riavochiamo, come compagnia, la famiglia dell'Affi, del 1200, Ghibellino, quindi, sembrava più che giusto, venire, a presentare per il libro, ovviamente, l'epoca è quella, la famiglia è quella, la passione è quella, la fede è quella, esatto, più di così, pensate, allora Emanuele, come avete capito, è un figurante, medievale, e mi diceva, che lui preferisce, invece di fare il rinascimento, che è più elegante, ma lui vuol fare il 1200, proprio, Ordelaffiano, come era Forlì, un fante proprio, di Bellino, Ordelaffiano, mi spiegavo, fra l'altro, prima abbiamo blindato, è blindato anche lui, noi abbiamo blindato, con un bicchiere di carta, lui, si è rifiutato, ha blindato col suo corno, ha dato il mio corno, ha dato il corno di mucca, esatto, usavo proprio, proprio, è proprio, questo, si beveva, poi, è il figlio, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, per portare il rindo, l'ultimo, naturalmente, tutto il mercario, proprio dell'epoca, già avvitino il più possibly, a quello dell'epoca, naturalmente, a lui, si può evitare, Naturalmente questo libro non si può dire altro che dargli, dedicarglielo personalmente e sono contento di darglielo. Noi vi abbiamo dedicato un monumento, ci siamo dovuto avere un libro. Ti ha descritto anche qui il monumento della crocetta, sto parlando della battaglia della crocetta lui, è molto informato anche sui venimenti che vennero, discutendo con lui mi ha dato altri spunti per altri particolari che mi hanno sfuggiti e lo ringrazio anche per questo, anzi mi ha spiegato più in particolare che gli ho chiesto, per cui Emanuele ti dedico volentieri a questo libro. Grazie, spero di esserti per le prossime edizioni. Ecco, ti ringrazio anche te, a Emanuele, l'ultimo dei ghibellini forimesi rimasto al mondo, ed è davvero. Pensavamo di averci sconfitto ma noi dall'ombra della storia ritorniamo sempre. 19 aprile 2014, grazie a Emanuele, grazie a voi di avermi accolto. Prego, tormeritalia, e qui chiudiamo.